Le prime sensazioni sono positive, sono arrivato, mi hanno accolto tutti quanti bene, sia lo staff che la società che la squadra. Ho trovato un bel ambiente, un gruppo molto coeso tra di loro, il mister che è un gran cultore del lavoro e questa è una cosa che ho apprezzato molto. Allenamenti intensi, sedute molto lunghe, questa è una cosa che ho apprezzato molto perché è una conferma di quello che mi avevano detto, che qua si lavora, si lavora bene e che si hanno molte ambizioni. Infatti questo è il mio obiettivo primario, venire qua per mettermi in luce e fare un grande campionato come il mister ci ha chiesto sin dai primi giorni che sono arrivato. Non sono molto rapido, ma sono molto bravo nella marcatura e sono un difensore abbastanza roccioso, che gioca molto sull'uomo e cerca spesso l'anticipo. A livello mio personale penso di essere un compagno buono, riesco a essere molto collaborativo con la squadra. Non a caso ho fatto molti anni il capitano anche a Roma perché mi riconoscevano tutti quanti delle doti di leadership e comunque di essere un bel elemento nel gruppo. Vediamo le scelte del mister, la speranza c'è sempre, anche se so che sono l'ultimo arrivato e che devo rimettermi a passo con la squadra perché comunque loro stanno lavorando da prima rispetto a me. Hanno sostenuto carichi di lavoro più intensi, io comunque vengo da una preparazione un po' più blanda essendo stato tra prima squadra e primavera. Però sicuramente spero sempre di essere negli undici titolari e spero quest'anno di fare il maggior numero di presenze e cercherò di lavorare ogni giorno per migliorare, incrementare e fare tutto ciò che viene richiesto dal mister e soprattutto dalla squadra. perché in campo poi penso che giochiamo sempre noi, noi undici, noi ventidue, perché quelli della panchina secondo me sono fondamentali e anche quasi più di quelli che giocano i titolari. Penso che ogni partita ufficiale non è una partita per perdere gamba. Sicuramente se si chiama Coppa Italia ha un valore, ha un'importanza e secondo me va onorata la competizione, va onorata sempre la maglia. In qualsiasi gara io scendo in campo come il resto della squadra, noi giochiamo per vincere e mai per perdere, anche perché sennò sarebbe inutile secondo me entrare in campo con l'idea di prendere minutaggio. Noi siamo consapevoli che sicuramente è un impegno di inizio stagione e quindi non ci sarà ancora la forma ottimale, ma allo stesso tempo siamo vogliosi di fare il meglio possibile. Sicuramente la competizione è impegnativa, però dobbiamo prenderla anche in modo copedeutico perché le prime di campionato saranno Palermo e Bari e quindi saranno subito impegni tossi. Noi dobbiamo essere subito pronti e cercheremo di mettercela tutta per andare avanti anche in questa competizione.